Sindaco di ritorno da Memmingen dopo quattro giorni, come è andata? Come al solito è andata bene, è chiaro che quest'anno c'è stata l'occasione di conoscere un nuovo sindaco, Manfred Schindler, chiaramente nasce un percorso nuovo perché poi i gemellaggi si batano sui rapporti fra due città, fra due comunità, ma poi si batano fondamentalmente sulla volontà del sindaco di portarlo avanti. Questo nuovo sindaco ha espresso di continuare l'onda lunga di Ivo Olsinger, col quale mi sono incontrato, quindi continueremo nei rapporti di tipo lavorativo perché noi non dobbiamo dimenticare che a Memmingen ci sono 20 ragazzi terramani che lavorano lì e che probabilmente si stabiliranno lì ed è comunque una cosa positiva. Continueremo gli scambi che ci sono stati fino ad oggi, vorrei ricordare che in tante occasioni tanti gruppi terramani, per esempio sono andati a cantare e a suonare a Memmingen, quindi continueremo questo rapporto che non si basa soltanto sullo scambio delle visite. Ho invitato il sindaco Manfred ad essere qui a Teramo a settembre, probabilmente ci verrà a trovare, così farà anche l'occasione per presentarlo alla città, per presentarlo al Consiglio Comunale, ma l'idea è che è uno di quei gemellaggi davvero che ha un accorpo, a differenza un po' degli altri che invece, per tutt'aceli motivi, si sono persi un po' nel tempo. Come al solito c'è stata la solita Fischertag, che è sempre una bella festa, insomma, nell'ambito della tradizione tedesca, quindi tantissima gente. Quest'anno è venuto anche il nostro comandante Zaina per iniziare anche un rapporto tra la polizia di Memmingen e i nostri vigili urbani, esiste già un rapporto con la polizia della nostra città, però insomma sempre, ripeto, per implementare un po' questi scambi, e quindi poi, devo dire, qualche giorno, perché siamo stati soltanto tre giorni, però sufficienti, insomma, come dire, a tenere vivo questo rapporto. Ho incontrato anche il sindaco di Volsinger, che adesso è pensionato, fa il nonno, però insomma una persona col quale abbiamo scambiato anche tanti punti.